chiedo scusa mi cilliscio come l'olio ci sono un po' di allergia però questa sera c'è l'allergia altro che allergia c'è l'allegria qui a Redas perché qui a Redas ci si diverte come sempre si imballa sempre con grandi orchestre questa sera sono fortunato perché tocca a me ci sono io in pedara con tutti i miei ragazzi e questa sera sarà un venerdì sera veramente carico di allegria amici deliscio come l'olio vi salutiamo, ciao Daniela, ciao a tutti ci vediamo presto